Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di pistacchi e pomodori secchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono pistacchi già sgusciati, pomodori secchi sott'olio sgocciolati, cascio cavallo, parmigiano, basilico e olio. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pistacchi, i pomodori secchi, il parmigiano, il cacio cavallo, l'olio ed il basilico. ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. ed azionare nuovamente il bimbi per 30 secondi a velocità 7. Il pesto è pronto. Trasferire in barattoli di vetro. Pesto di pistacchi e pomodori secchi. Si conserva in frigo ricoperto con un filo d'olio, ideale per condire crostini o la pasta. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.